Oh, mi scusi. Grazie. È la mia prima volta su un treno di pendolari. Lei invece? Ogni giorno, da dieci anni. Conoscerà tutti su questo treno? Diciamo di sì. Mi considero un ottimo osservatore. Facciamo un esperimento. Un esperimento? Parte tutto da una domanda. E qual è? Che tipo di persona è lei? Se io le chiedessi di fare una cosa piccola piccola, la farebbe? Vorrei sapere che genere di cose. Qualcuno non dovrebbe essere su questo treno. Lei non sa che aspetto abbia. Deve solo trovarlo. Perché dovrei farlo? Avrebbe una ricompensa. È uno scherzo. Non scenda dal treno per nessun motivo. Non dica a nessuno di questa offerta. Ti osservano. Non mi costringa a ferire qualcuno che ama. No, non lo farò mai. Non hai idea di chi ti sei messo contro. Uccideranno lei, la sua famiglia e tutti i passeggeri del treno. Se vuoi vivere, ferma subito questo maledetto treno. Alla prossima fermata dovrà decidere. Che tipo di persona è lei? Che tipo di persona è lei. Che tipo di persona è lei? Grazie.